La banca europea regala mille miliardi alle banche, ma quando chiedo un mutuo, la risposta è sempre no. Con la lira la mia pensione era dignitosa. Ora con l'euro ci sopravvivo appena. Anni di studio e non trovo un lavoro decente. Sarò costretto ad andare in Germania e non voglio. Nessun posto negli asili, nessun sostegno pubblico. Altro che Europa, crescere una famiglia è un lusso. In Europa, alza la testa. Il 25 maggio, vota Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Il voto, utile per l'Italia. Messaggio autogestito gratuito. Soggetto politico committente, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale.